se a prima ero mia bottina per te lei mi puoi messa 6 e me e te lo caglio tre menta se tu a me o tu e quello ha detto ne ho capito e ti ho capito lei hai detto e quando hai un saluto è che stai a girare stai a girare ma che stai a girare so e c'è papà papà ti è divertito? no stiamo fatta di come noi c'è non ho visto ma c'è un malato 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 bravo non me ne è una male non cazzurro un bacio a tutti gli amici su youtube un bacio ragazzi ci siamo divertiti un bacio a tutti